Lo stabilimento Opel di Bochum in Germania cesserà di produrre automobili a partire dal 2016. La controllata europea di General Motors ha motivato la decisione con le difficoltà che attraversa il settore auto in Europa, dove le vendite di veicoli sono crollate del 15% negli ultimi nove mesi. Secondo i sindacati, questa scelta mette a rischio 3.000 posti di lavoro. L'azienda ha tuttavia assicurato che lo stabilimento non sarà chiuso ma trasformato in un centro per la distribuzione di pezzi di ricambio. GM punta a rimettere Opel in attivo entro il 2015.